Abbiamo lavorato bene con Profit, questo è un periodo in cui si cerca di pristinare i parametri fisici, lavoro di ripresa, abbiamo lavorato anche tanto, correndo quotidianamente, un bilancio positivo, limitatamente a quelli che siamo, perché poi non ci sono stati intoppi e questo è già una cosa importante. Piano piano, qualcuno è arrivato dopo, qualcuno farà dei lavori supplementari. Abbiamo appena cominciato un percorso, diciamo che non è così semplicissimo fare bilanci anche perché sono bilanci diversi, però per quello che riguarda questa settimana di lavoro abbiamo fatto un po' l'altro, poi se si lavora bene nelle condizioni ideali. Ma no, ma questo lo sappiamo adesso, non ci dobbiamo completare, questa è una squadra che non è ancora mai, lo sappiamo. In questo momento è perfettamente inutile parlare di mercato, poi non è un argomento che mi piace tanto affrontare. Sappiamo che dobbiamo fare delle cose, lo sappiamo noi, lo sanno la società, lo sanno un po' tutti. C'è il tempo per farlo, abbiamo degli obiettivi, prenderemo giocatori che si stanno già allenando perché è importante anche quello, insomma la stagione è cominciata, pensare di prendere qualcuno a cui devi dedicare 15-20 giorni di tempo per rimetterlo a posto e poi non ci siamo già colletati. Dobbiamo fare delle cose, le faremo, sono sicuro che le faremo, le faremo mirate per quelle che sono le scelte che andremo a fare e per quelli che sono i nostri obiettivi. Ne faremo una col gubbio perché loro l'hanno chiesta, io sono un po' contrario alle amichevoli perché questo è un periodo in cui si lavora, ad esempio stiamo correndo tutti i giorni e lo facciamo da otto giorni, stiamo correndo anche tanto assieme a tutti gli altri aspetti che stiamo curando, per cui è un periodo in cui i giocatori sono un po' contrari a questi impegni che alla fine ti portano un po' a rischiare qualcosa in un momento in cui... però ce l'hanno chiesto, lo faremo, non siamo tantissimi, cercheremo di farci trovare diciamo più o meno pronti, ma al di là dell'amichevole abbiamo cominciato otto giorni fa un lavoro che terminerà a fine stagione, per quello che riguarda il ritiro non è che tutto si concluderà in questi 15, 16, 17 giorni, appena che torneremo a Catanzaro è sempre un periodo di lavoro, di doppie sedute eccetera, il nostro obiettivo è il campionato tenendo conto che nessuna squadra per l'inizio della stagione è al 100% quindi questo riguarda anche noi, ma lavoriamo perché è quello che conta il resto è il mercato, non mercato, amichevole, non amichevole, ci sono degli impegni che si fanno ma ciò che conta è lavorare, piano piano aumenteremo anche di numero e ripeto, saremo in grado di perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati